Sfida tra le pretendenti al titolo quest'oggi a comunali e controverlo di Campello sul cliturno. I padroni di casa in divisa bianca affrontano il Bevagna in completo blu. Posto in palio che sembra pesare su in tampe dei compagini, tanto da regalare uno scolorito 0-0 finale. Andiamo alla cronaca. Primo tempo che vedi il Bevagna padrone della manovra, che però si spegne sempre puntualmente al limite dell'area avversaria. Al quinto minuto ci prova a dare dalla distanza, ma la mira è imprecisa. Sempre il numero 9 ospita al ventesimo, non sfrutto il bel cross dalla destra e il dottor colpo di testa debole e facile preda per Lazzarini. Si vede la cliturno al trentaduesimo, Calamita non sfrutta una buona palla da distanza ravvicinata e Brunacci neutralizza il pericolo. Rivaltamento di fronte con Grammaccioni e Luca che si incune nell'avversaria, ma la sua conclusione è lontana dallo specchio della porta. Al trentasettesimo, nuova occasione cliturno, Baron ci spreca da buonissima posizione e spedisce alto. Ultimo attacco Bevagna al quarantesimo, ancora è da dare che cerca la girata di testa, Lazzarini respinge in angolo. Nel secondo tempo si invertono le parti e la cliturno a spingere in avanti, ma anche in questo caso con scarsi risultati. Prima conclusione al ventunesimo, tiro cross di Candelori, Brunacci controlla in due tempi. Risposta Bevagna al venticinquesimo, con Ceccarani che colpisce la traversa nel tentativo di cross. Furioso episodio al quarantesimo, protagonista è il guardarine dell'acriturno, espulso per protesta e lascia il posto al dirigente in panchina. Al quarantottesimo, l'occasione più nitida di tutta la partita, Cavadenti prova la botta dal limite che però sfila fuori. È questo l'ultimo sussulto di un incontro che ha regalato poche emozioni e che termina quindi sullo 0-0. Una partita ben giocata da ambo le squadre, sicuramente loro sono partiti più forti il primo tempo, noi abbiamo reagito, abbiamo secondo me giocato meglio il secondo tempo. È stata una partita maschia, una partita sicuramente tra la prima e la terza in classifica, di alto valore. Grosse occasioni non ce ne sono state da ambo le parti, non possiamo stare a ricriminare su quali occasioni. Comunque ho visto una buona gara, complimenti al Bevagna, complimenti ai miei giocatori. Ripartiamo per la prossima giornata dove affronteremo un altro scontro in casa della Visse Foligno. Allora, la partita è il primo tempo, siamo andati meglio noi, il secondo tempo sono usciti loro e ci hanno schiacciato nella nostra area. Loro è una buona squadra, è una squadra che è nata per vincere il campionato e ce la siamo giocata quasi alla pari, diciamo, un tempo per parte.